in diretta dalla redazione di Teto News in Pavia va ora in onda il caffè della sera con Lorenzo Blone allora scusate stesso un piccolo bui procuoli per lì su per giù e vabbè fai niente risolto allora non vedo una cosa aspettate eccolo qua ola visto che qualcuno si sta per mettere in ginocchio non so se si mette in ginocchio così io metto in ginocchio per Saman infatti oggi c'era scritta in ginocchio per Saman e non abbiamo il logo della trasmissione ma abbiamo la foto di Saman visto che non so se il link è ancora valido quello di prima vi rimetto il link sulla mia pagina facebook quindi se volete andare entrare no è uguale a quello di prima quindi dovrebbe è ancora buono è a posto comunque lo rimettiamo tanto per essere sicuri sulla pagina della trasmissione vediamo se lo pubblica pubblicato perfetto va bene ok quindi lo trovate sulla pagina della trasmissione lo metto anche sul mio profilo così oggi 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 facebook mi ha proprio bannato si può dire vabbè fai niente vabbè 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 la superiamo la superiamo lo stesso ecco qua ok allora ci sono eccoci qua vedo che ci sono ancora gli amici di prima quindi va bene eh mentre aspettiamo gli altri allora 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 dai vediamo un po' quanta gente non guarda la partita e e viene in diretta con me vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' perché controlliamo un po' intanto va bene intanto vi ricordo che Svizzera Spagna è finita 1 a 1 ma poi è finita no ha vinto ha vinto la Spagna quindi l'eventuale semifinalista con l'Italia sarà la Spagna o meglio la prima l'aprile semifinalista è la Spagna proprio vedere se gioca con l'Italia o con il Belgio eh quindi vabbè comunque sia eh siamo qua siamo qua in attesa del del fischio d'inizio e in attesa di qualcuno di voi vediamo un po' se c'è qualcuno vediamo 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 dai 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 allora che che di cosa parliamo oggi oggi beh oggi la notizia sicuramente più importante è il fatto che eh non ci sono ehm morti di di covid in in Italia quindi no chiedo scusa cosa cosa cavolo ho detto no avevo detto la cavolata eh ho detto la cavolata allora cosa cavolo no nel senso che no ci sono ancora 28 morti questo si purtroppo però nel senso che continua il caso di non ci sono morti in Lombardia ecco volevo dire questo scusate mentre 28 morti a livello a livello nazionale e dicevamo il calo i ricoveri sono sempre in calo quindi meno 63 e in terapia intensiva addirittura meno 16 quindi i guariti sono 2345 il tasso di positività è lo 0,4% quindi va bene eh poi 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 vediamo un po' nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 794 casi di coronavirus e quindi purtroppo vabbè ne sono ancora però sta andando molto molto meglio eh a fronte di 199.238 tamponi giovedì erano 882 su 188.474 tamponi e l'ho rendito il ministero della salute che ha sottolineato che i decessi sono 28 continua il calo dei ricoveri in ospedale quindi meno 63 e in terapia intensiva meno 16 i guariti sono 2345 appunto il tasso di positività come dicevo è dello 0,4% poi 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 eh i ricoverati sotto quota 1.5 sono 213 pazienti ricoverati in terapia intensiva per il covid in Italia gli ingressi giornalieri sono stati 3 in campagna Piemonte e Sicilia giovedì hanno stati 7 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.469 da inizio pandemia sono 127.615 i decessi i casi in Italia dall'inizio della pandemia sono 4.261.582 e i morti appunto 127.615 i dimessi e i riguariti sono in totale fino ad ora 4.086.188 mentre attualmente positivi sono 47.779 in calo di 1.579 nelle ultime 24 ore in isolamento domiciliario ci sono 46.097 persone 1.500 in meno rispetto a ieri quindi la situazione sembra eh no non sembra sta migliorando assolutamente assolutamente eh in ginocchio ma no assolutamente no 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 la mia provocazione Silvana penso che sia tutto in ginocchio in ginocchio per Saman per capire come è morta questa come è morta lo sappiamo purtroppo eh ma dov'è soprattutto dov'è perché il corpo non si trova è passato è passato già un bel po' di tempo eh un mese circa e noi non si trova il corpo non si trova il corpo di una ragazza che aveva la colpa di voler vivere alla occidentale e vabbè vedremo un po' come 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 si risolverà la questione eh dai allora eh vedo che siamo pochissimi va bene i giocatori si sono messi in ginocchio i giocatori eh ecco questa è una cosa che a me fa incazzare perché lo fanno perché lo fanno gli altri è quello che oppure perché glielo obbliga la lega calcio la federcalcio chiamata come volete è quello che mi fa incazzare lo facessero perché ci credono benissimo cioè lascia libertà chi lo vuole chi vuole lo fa chi non vuole non lo fa semplicemente quindi vedremo un po' vedremo un po' dai come come andrà sì è vero sono proprio incazzata è così è così purtroppo è questo come puoi dire non è neanche perbenismo è questo qualunquismo perché ormai cioè così lo fanno tutti quindi bisogna farlo che ripeto abbiamo già parlato più volte nelle emissioni il caso Floyd riguarda l'America è stato successo in America in Italia sono successi altri casi probabilmente ma ci sono anche altri casi come quello di Saman che venirebbero un po' più di rispetto un po' più di di audience di da parte della carta stampata invece no invece niente invece noi facciamo tutto quello che fanno gli americani gli americani fanno così noi dobbiamo fare così qualcuno dice è un gesto provocatorio contro il razzismo no non è un gesto provocatorio contro il razzismo in Italia è una pagliacciata sono responsabile di quello che dico assolutamente però in Italia è una pagliacciata perché come ho detto il razzismo non si combatte inginocchiandosi il razzismo si combatte facendo con quella cultura con con la conoscenza del tra virgolette nemico chiamiamolo così o del o del o del diverso chiamiamolo così benissimo non si combatte inginocchiandosi il poliziotto che che si è inginocchiato su Floyd è giustamente in galera e quindi è un gesto secondo me inutile 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 allora ho saluto la mia amica l'amica Alessandra che ieri ha cantato egregiamente egregiamente e io ieri ero stata sentirla brava Ale complimenti ho girato il video a Paola se ti interessa sentila ok e vero il razzismo non si combatte no perché così non c'è non è una moda allora adesso è di moda no è di moda inginocchiarsi inginocchiamoci non so tra un po' sarai di moda un'altra cosa faremo un'altra cosa cioè non si va con la moda a combattere il razzismo a combattere ragazzi c'è in altri modi in altri modi scusate il visticio di parole vabbè e allora dai niente frattempo qua non c'è niente benissimo allora fatemi tornare sulla pagina di prima no non c'è non c'è la diretta no non c'è la diretta benissimo sto cercando di 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 la pagina con il resoconto scritto però non non c'è vabbè allora grazie l'ora è sempre un piacere vederti lo sai anche per me lo sai Ale che sei ci conosciamo non da tantissimo tempo però sei una mia cara amica e quindi è sempre un piacere un piacere vederti e soprattutto sentirti poi quando quando canti è sempre bello sentirti e cercherò di di essere presente anche per le prossime esibizioni allora assegnato l'Italia oh bene bene assegnato l'Italia quindi poi quindi portiamo bene saluto intanto quegli altri quattro che si sono aggregati e non stanno guardando la partita la puntata proprio tra amici quindi aspettavo magari facciamo durare un po' meno però è una puntata proprio tra tra amici bene bene c'è stato l'Italia portiamo bene ok e allora vediamo un po' eccolo qua Francuso Francuso c'è Francuso c'è avevo paura che che ti fossi appisolato davanti alla partita invece ci sei bravo Franco bravo 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 Franco come dicevo non ho fatto il solito blocco con scritto per collegarti in diretta ma c'è solo il link perché facebook mi ha bloccato fino a domani alle 20.53 non so se qualcuno mi ha segnalato mi piacerebbe sapere per cosa non chi chi me ne frega il cacchio ma per cosa sono stato segnalato oppure se è una scelta di facebook secondo cui non rispetto il loro loro protocollo quindi vabbè doveva essere bloccato cioè ma che poi mi ha bloccato solo non posso pubblicare niente ma posso vedere posso se invece poi pubblichi con un'altra o mi metti un'altra foto te la fa pubblicare vabbè vabbè affari suoi affari suoi va bene dicevamo francuzzo perché non entri non entri in diretta quindi poi parliamo anche oggi anzi no devo dare merito a chi a un a un collega a un collega che l'altro giorno parlando così parlando di quello che sia la pavia di quello che tutto la politica il sindaco non il sindaco l'amministrazione così mi fa ma scusa tu dopo quel comunicato stampa un po' estemporaneo mandato dall'ufficio stampa del comune hai più sentito parlare del campo nomadi effettivamente no effettivamente no e quindi mi piacerebbe oggi sicuramente no però magari tra i quattro che mi stanno guardando magari c'è qualche amico degli amici del consiglio comunale che mi piacerebbe sapere che fine ha fatto questo chiamarlo proprio provvedimento no questa decisione del sindaco di intervenire perché bisogna stabilire la legalità bisogna stabilire e prontamente pubblicizzato dall'ufficio stampa che poi pare caduto nel vuoto passato un mesetto sì più o meno un mesetto è passato e quindi boh poi altra notizia di oggi anzi sì di oggi è che no i ieri scusate è che è stato rinnovato l'orario di apertura anzi confermato l'orario di apertura dei bar quindi chiuderanno alle 2 e apriranno normalmente alcuni richiederanno alle 2 e non come è comparso sul quotidiano locale se non sbaglio che aveva scritto il fine settimana intendo mentre il quotidiano locale aveva scritto aver sbagliato il giorno quindi quello che fa fede ovviamente è il documento comunale quindi alle 2 tutti speravano di guadagnare qualche qualche ora in più invece no invece rimane così fino al 31 luglio rimane così poi poi si vedrà poi si vedrà chi vi verrà vedrà io continuo a dire che è una una scelta non mi piace sbagliata che non condivido perché penso che chi i responsabili della Manamo Vida non non sono quelli che si siedono al bar i responsabili della Manamo Vida sono persone che si procurano magari anche il giorno prima o il pomeriggio o in altri momenti il gli alcolici e per conto loro non si siedono al bar vanno in giro bevono magari su una panchina su un muretto o quel che è e poi fanno casino quindi non non credo che ci siano che ci siano dei legami diretti tra Manamo Vida e bar e orario dei bar perché ricordiamoci che ci sono dei ci sono dei supermercati dove maggiorenne quanto meno maggiorenne può prendere gli alcolici anche durante la giornata quindi non è che non è che deve aspettare le 10 di sera mentre sentivo alcune persone che causa cane nel senso che avendo un cane dove devono andare in giro anche la sera criticavano non la presenza ma l'attività di chi dovrebbe stare in piazza a controllare dicendo che i rappresentanti delle forze dell'ordine quindi polizia guardia di finanza carabinieri che ci piene a piena metta spesso stanno stanno aggruppati tra di loro e parlano tra di loro oppure stanno in macchina e comunque parlano tra di loro potrebbero fare di più anzi dovrebbero fare di più sarebbe meglio però vabbè è anche vero che sono pochi quindi hanno non dico paura però c'è il rischio di creare delle risse delle quindi preferiscono fare da deterrente diciamo così con la presenza senza fare senza fare molto non so quanto sia utile la cosa però vabbè almeno così è Francusso dove sei dove sei Francusso vieni dentro vieni in in diretta trovi il link sul mio profilo tutti trovate il link sul mio profilo che vuole entrare in diretta è anche sulla pagna del caffè della sera quindi quindi se cliccate c'è la foto di Saman c'è un link cliccate cliccate sopra o anche anche Cristina se vuole entrare in diretta così facciamo quattro chiacchiere dai io vi vedo che che siete che siete che ci siete dai fatelo 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 se no la puntata è lunga ragazzi va bene che magari la chiudiamo un po' prima però ecco se dovesse passare l'Italia sto valutando di chiudere la trasmissione per la pausa estiva già la settimana prossima adesso vediamo magari probabilmente quasi lunedì la faccio però se passa l'Italia visto che probabilmente è mercoledì la semifinale correggetemi se sbaglio è inutile fare la trasmissione poi poi ci sarebbe eventualmente la finale scusate quindi saremo già a metà luglio quindi diciamo che sarebbe un po' un po' inutile perché poi comincia le ferie la gente va via quindi magari vediamo 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 tante cose vediamo se arrivo in fondo alla puntata comunque dai vediamo ancora qualche altra notizia interessante di oggi variante delta allora parliamo ancora di virus variante delta al 22 7 per cento identificata in 16 regioni bruzaferro dichiarato monitorare crescita con attenzione quindi ah beh poi come non come non parlare di malica che quella ragazza che era stata allontanata si è stata allontanata dai suoi genitori perché o meglio criticata i suoi genitori perché si era dichiarata lesbica e quindi aveva aveva ottenuto una bella cifra di soldi di denaro da offerte varie per per poter vivere da sola ebbene questa ragazza appunto cacciata di carne per aver confessato la madre di essere lesbica ha acquistato con i soldi che gli sono arrivati che se riesco a capire quanti erano ve lo dico qua non non lo dice no comunque si ha acquistato niente poco di meno che una mercedes da 17 mila euro diciamo che una mercedes un po' dei poveri perché 17 mila euro una mercedes magari non era nuova o era un modello vabbè un modello minore e un bulldog francese al modico prezzo di 2500 euro è fuori gioco quindi siamo ancora 0 a 0 va bene se siamo ancora 0 a 0 niente come come non detto e quindi vabbè quindi cosa ne pensate anche di questa signorina che è ha un po' preso in giro diciamocelo quelli che gli hanno donato i soldi perché oddio è vero che le hanno donato i soldi lei i soldi ha deciso di spenderli così vediamo un po' certo che vedere questa qua che fino all'altro giorno in trasmissione piangeva e disperata perché vabbè giustamente la madre non lavoreva più a casa la famiglia tutto così improvvisamente la vedi bella sorridente in mercedes e con un bellissimo bulldog francese nero tra l'altro pagato 2500 euro con i soldi di di chi gli ha di che ha fatto le offerte quindi insomma un filino di prese in giro c'è vabbè vabbè e allora va bene dai poi vediamo un po' vabbè faccio fatica a commentare anche la notizia purtroppo vabbè del del sedicenne c'è nel bolognese il sedicenne il reo confesso ha dichiarato a un'amica l'ho fatto lei mi urtava i nervi pochi minuti dopo il delito il sedicenne manda gli audio a una ragazza lei inizialmente resta sconcertata e non capisce poi dopo la notizia della scomparsa racconta a tutti i carabinieri questa è depressa l'ho fatto me l'ha detto lui lei mi urtava i nervi il sedicenne il reo confesso dell'omicidio di Chiara Gualzetti aveva mandato alcuni messaggi a un'amica pochi minuti dopo il delitto l'ho presa a calci in testa mi sa che mi sono rotto un piede ho fatto delle foto diceva ancora negli audio inviati mentre era ancora nel parco della Bazzia di Monteveglio domenica mattina la ragazza che ha ricevuto quei testi scrive la Repubblica inizialmente resta sconcertata non capisce di cosa stia parlando solo dopo la scomparsa di Chiara avrebbe raccontato di quegli audio ai genitori per poi andare dai carabinieri quei vocali sono stati mandati poco dopo le 10 domenica mattina e si vanno ad aggiungere gli altri messaggi di cui già gli inquirenti hanno dato notizia quello in cui il ragazzo scrive domenica farò fuori una ragazza già stavo per perdere il controllo allora ho dovuto fare un patto con lui il demonio si presume e almeno un po' colmato la sua sete è un folle questo è un ragazzino folle che che va così che purtroppo ha fatto questo gesto non lo so questo gesto che non riesco a commentare perché solo l'idea di di un ragazzino che sente le voci e usa la scusa di sentire le voci per per uccidere una una sua quasi coetanea lascia molto molto amaro in bocca e sicuramente è vero il suo ragazzino in galera quindi ci rimarrà abbastanza lungo e però questo non ridà la la figlia ai genitori ecco quello vabbè purtroppo succede anche questo nel nella cronaca italiana e vabbè ragazzi siamo tristi veramente triste però guarda che e negli usa però non sono messi meglio perché allora è successo ed è di oggi pomeriggio la notizia usa famiglia sterminata da un killer ragazzina si finge morta e si salva la coppia aveva altri due figli un bimbo di otto anni che era con uno zio e un altro di un anno che è rimasto illeso si finge morta e si salva dopo che la famiglia viene sterminata da un killer è accaduto a Houston nel Texas dove una ragazzina di dieci anni è sopravvissuta a quella che è stata una vera esecuzione della sua famiglia uccisi con un colpo alla testa padre madre e sorellina di sei anni la bimba ferita al braccio è poi riuscita a chiamare la nonna con FaceTime per mostrarle la scena la coppia aveva altri due figli un bimbo di otto anni che era con uno zio e un altro di un anno che è rimasto illeso le autorità non hanno ancora commentato l'accaduto ragazzi qua stiamo dando tutti fuori di testa sarà il caldo sarà il lockdown anche questo quando dicono che è il lockdown che provoca queste cose ci credo poco oddio può essere la causa in più questo probabile però ci credo poco ci credo poco perché ci sono sempre stati purtroppo le stragi anche quando c'era lockdown e e quindi vabbè questo è un po' un un alibi un alibi che si vuole dare a a chi commette queste queste feratezze e allora vabbè purtroppo è ancora 0-0 l'Italia almeno da quello che vedo io quindi il gol appunto come diceva Silvana è stato annullato annullato per fuorigioco e vabbè 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 dai va bene vediamo un po' vediamo un po' cosa c'è d'altro da commentare eh allora allora cosa mi hanno detto questo mi hanno detto è arrivato Murigno a Roma il bello è che adesso va a fare cinque giorni di praticamente di quarantena nel centro di Trigoria quindi è stato portato in macchina a Trigoria lui si sarà si chiuderà lì a Trigoria per cinque giorni farà la quarantena appena è sceso dall'aero il portoghese è stato accolto l'entourage del club che gli ha consegnato una sciarpa giallorossa subito messo al collo tifoso in delirio per lo Special One prima all'aeroporto e poi a Trigoria dove il portoghese si è affacciato da una terrazza per salutare i tanti sostenitori presenti bello una foto di un tifoso con Mourinho vestito da Papa con scritto Abe Mous oh attenzione gol dell'Italia Barella attenzione attenzione allora se lo ritrovo avevo qua il no non dimmi che l'ho buttato via se l'ho buttato via sono un pistola il pronostico del Gallo però l'ho buttato via mi sa perché non c'è più non c'è più non c'è più e allora l'ho buttato via che aveva detto cosa aveva detto andate a vedere nella puntata dell'altro giorno e vedete cosa aveva detto comunque effettivamente adesso l'Italia in vantaggio l'Italia in vantaggio gol di di Barella quindi 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 punto ci fermiamo lì non diciamo niente la vita è ancora lunghissima e va bene va bene va bene basta e andiamo avanti così e andiamo avanti così allora poi per la serie complichiamoci la vita eh no mi pensavo fosse un raddoppio invece mi mi ricompare il gol della nazionale il gol di Barella allora per la serie complichiamoci la vita serie A rivoluzione nel calendario il giro di ritorno sarà diverso dall'andata la decisione nel consiglio di Lega dopo il giro di Boa le gare saranno diverse sia come ordine sia come composizione all'interno dello stesso turno ma perché grande novità della compilazione del calendario serie A a partire eh dalla prossima stagione 2021-2022 quindi quella che inizierà a settembre scusate il giro di ritorno sarà asimmetrico nella sequenza delle giornate rispetto al giro dell'andata lo ha stabilito all'unanimità il consiglio di Lega che si è svolto stamattina il nuovo format prevede che anche le partite di ritorno sono totalmente diverse da quelle dell'andata sia come ordine sia come composizione all'interno dello stesso turno questa è la novità rispetto ai campionati in cui il calendario asimmetrico è già in vigore come Premier League Liga e Liga e Ligan la nuova formula che prosegue la Lega di Serie A permetterà una migliore distribuzione degli incontri non condizionati in questo modo da vincoli presenti all'andata che possono ricadere sulla stessa giornata di ritorno e viceversa l'unico criterio imposto al sorteggio sarà che una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri otto incontri concludere la nota ragazzi bene ma si compliciamoci la vita facciamo anche questo chi se ne frega mamma mia ragazzi vabbè 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 non sanno più cosa fare non sanno più cosa fare mi sembra si è tornato alle prime puntate quando facevo quando nessuno entrava in diretta parlavo sempre io con un pirla per un'ora e oggi era prevedibile l'avevo previsto però 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 pensavo che qualcuno entrasse invece tutti e guardare la partita il gallo è è in è in croce verde e quindi non e quindi non non è non è non è collegato allora poi vediamo un po' cosa c'è ancora altro da dire eh no nient'altro vediamo un po' per il momento non ci sono altre notizie interessanti no eh allora una ragazza dice per quanto riguarda i contagi a Mallorca la movida a Mallorca una ragazza contagiata dichiara feste trasformate in autentici focolai quindi anche lì veramente boh cioè c'è questa situazione la gente va comunque a Mallorca va bene andate andate lo stesso eh no oggi beh come le notizie importanti oggi via il Green Pass europeo quindi per viaggiare senza restrizioni in tutta l'Unione europea eh va bene va bene ci sta ci sta quindi se avete intenzione di viaggiare benissimo potete farlo se avete avuto il Green Pass ecco Green Pass che fino a poco tempo fa veniva dato dopo la prima vaccinazione adesso pare che verrà dato solo dopo la seconda quindi chi l'ha avuto dopo la prima eh penso che può utilizzarlo per altri scopi e non non è non ha lo stesso valore di chi di chi ce l'ha con le due vaccinazioni quindi vabbè vabbè dai sarà così vabbè dai ragazzi la oggi la chiudiamo qua tanto eh siamo in tre e nessuno vuole entrare quindi eh la chiudiamo qua ci vediamo ancora lunedì e poi vediamo e poi e poi decidiamo sicuramente lunedì ci vediamo così eventualmente ci diamo tutti i saluti tutti ci auguriamo buone buone vacanze e tutto e direi che appunto per per oggi è tutto ringrazio per le quattro siamo andati in avanti quattro persone quelle quattro persone che mi hanno guardato fino adesso e niente a lunedì vado a vedere e allora vediamo anche la partita ciao a lunedì sigla in diretta dalla redazione di Teto News in Pavia vi abbiamo trasmesso il caffè della sera con Lorenzo Blone appuntamento alla prossima puntata ciao ciao fatti bravi ciao Grazie.